In un altro livello di Ratchet e Clank Fuoco a Volontà Meglio parlare piano perché se no il mio gatto si sveglia e gli viene fame Se avete capito bene, se svegliate il mio gatto gli viene fame Eccolo là, ecco il gatto Sì ma il video non è fatto, non è per il gatto ma per il giò Ma il video che sto facendo non è perché per vedere un gatto in sovrappeso Ma è vedere io che scriverò mentre gioco Ricordiamo sto principio Ok Mi sto orientando al Sto andando a caso Porto al 2 Ok Aspetta ma quello è apparso dal nulla Pula Pula Ma lì l'acqua è congelata Ho fatto la fregna Bisogna andare acqua a ora capisco ora capisco tutto mannaggia la saliva con bocca ogni 5 secondi ok ho capito dove bisogna andare ma anche nuovo no ho fatto la preghia ah 4 minuti sono passati solo 4 minuti oh cacchio mi ricordavo bene c'è il pesce c'è il pesce e poi ce l'ho fatta io ho paura di quei pesci no no oddio mi sto a provenire un infarto di pene citazione di un bigol fenix se non vi iscrivete a chuck norris verrà qui verrà a casa vostra ucciderà ahahah non fai più lo spaccone adesso primo cerchio mi faccio uccidere perchè perchè ne avevo voglia ah no ci posso saltare un picco tu mi ti amo ah ho capito alzati ecco era tutto se era tutto sbagliato ok sali fai subito no ho fatto la freghia super saiyan di quarto livello ecco ci ho fatto no ho fatto la freghia fuori ok oh cacchio qui si vede la pinna ecco ecco come devo fare mi sa che devo fare alzare la doveva eh si penso di aver sbagliato troppo basso vai subito no 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 si 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 ci passo ci passo si ci passo si ci passo eh ma che lingua parla un cliente mascherato ha ritirato un ordine poco fa di recente hanno ricevuto una nuova trasmissione da lui e sono disposti a farcelo vedere pagando una piccola cinta quanto piccola 6.000 volte ma ficcatevi lì in quel posto dove non batte il sole io ho bisogno di ordinare ancora altri due container di acido no meglio fare cinque container e quattro container di idrogeno liquido è meglio aggiungere sei casse di nitroglicerina e faccia la consegna a domicilio ehi ma cosa che c'è oh niente è solo umorismo robotico umorismo robotico andiamo a quelle coordinate c'è il tazzi che vola c'è il tazzi che vola e non c'è nessun tazzista e non devo pagare per andarci è ok vediamo cosa c'è qua ah 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 canone laser a fusione come non ah quindi sono andato qui per niente è questo che vuol dire non ho do fred si un i non non se non ma faccia ok aspetta ma questi formando delle palle tagli con delle lami che mi vogliono tagliare il pene salutami a satana a satana ok torri di gialli ma questa è è plagio a un bigol fenice precisamente il canale di giallo 90 ricordo qual era il numero fa niente e muori statemi lontano non mi toccate il pene ci sono i robot che mi vogliono violentare cacchio esploso è tutto aia cacchio questi mi massacrano ciò mi sto eccitando usando quest'arma ci credete che mi sto eccitando a usare quest'arma cacchio cacchio anche cacchio la vabbè mi sono per le palle la tutte 24 ok no ho fatto la fregna e salta ah no pensavo che devo sclerare no soffi non svegliare e non andare a chiedere cibo perchè il tuo mio assomiglia a quello di un gatto che sta morendo di fame e non è il caso perchè sennò dopo mi chiudono il canale perchè pensano che ti tengo al digiuno no non osare a colpirmi non osare a colpirmi stranamente non sono stato colpito per ora io ti rendi dar manca ah no prendi questo questo è il boss come avrete capito e ora crepa salutami a satana bravo cadi muo' no ho fatto la fregna no ho sbagliato ho fatto aspetta aspetta salta aia mi stavo massacrando no no qui non devo scappar perchè se non muoio aia non ho fatto niente no no spara a loro cacchio mi sto cagando in mano di ciò al mio amico oltre vorrei anche pubblicizzare anche un altro canale oltre campi gol pensi e giallo e la ria spuola se vi consiglio di scrivere perchè è molto divertente salta acqua questo secondo me ha fatto dire delle parolacce però la maschera era rotta e quindi non scappava molto cacchio se sto cadendo ok scontro finale io ti voglio scappare Ok Ah Ah, hai verso Megatron Potete portare il vostro eco-fascismo imperialistico In un'altra dimensia Dite pure addio alla vostra Frank Andiamo Frank Troppo lento Servo della corporazione Muori Fatti sotto Finalmente che potrò farti crepare all'inferno Muori 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 Ti sto disintegrando Dai muori Cacchio Cacchio mi stanno Aia Ecco l'ho distrutto L'ho distrutto No è morto Ora è morto È morto È morto Per un attimo ci hai fatto spaventare Pensi anche tu che dovremmo fermarlo Non ne vale la pena Abbiamo ciò che volevamo Riportiamo questo piccoletto a Fizzujet Ratchet, Spank, siate voi? Missione conclusa signore L'esperimento è al sicuro nelle nostre mani Oh Ma è fantasticoso Assolutamente magnifico Siete una squadra davvero extravigliosa Lieti di averla aiutata signore Ci servono le coordinate del prossimo punto d'incontro Ovviamente Sto per fare un tour del sito minerario Megacorp Ecco una piccola presentazione sull'impasto Grazie Industria mineraria Megacorp Un'instancabile forza che traina la galassia Quando non sai che cosa ti resti Grazie basta E scoprite che il nostro prodotto più prezioso È la nostra storia Quando siamo giunti qui Abbiamo trovato un pianeta tutto ricoperto di foreste Per sistemare meglio la popolazione locale Abbiamo trasformato un'impenetrabile giungla In un più facilmente navigabile deserto Oh bravo Sempre pioniera nel campo della tecnologia La Megacorp ha creato un team di gestione automatico Riducendo sensibilmente i costi degli spostamenti E rendendo al tempo stesso La vostra vita molto più ricca Industria mineraria Megacorp La nostra marcia inarrestabile verso il progresso E grandi guadagni Richiedi oggi la relazione dei nostri investitori Attualmente l'impianto è ancora operativo signore? Purtroppo no Ormai è un sito di fuori di testa Ho inviato al vostro computer di bordo i condimenti Bene ci vediamo là Pianetto Tampor Guarda c'è il dottor Piswiget C'ha dist... Mi ha... Ma che cosa è successo? Ma tutto bene C'erano solo dei detriti sul modulo da tenaggio Quella era la nostra nave Eh non preoccuparti per i danni Tanto è assicurata Mi ha distrutto l'astronave Li vorrei spaccare la faccia E fargli partire tutti i denti Venite con me Andiamo veramente poco tardi Ma guardate che cosa ci fa adesso Cosa mi fa adesso Sedetemi e rilassatevi ragazzi Che ne dite di ascoltare un po' di musica? Ops L'ha fatto apposta ci giurerei No Ha soltanto un tantino di serato Sì va bene Va bene Forza Crank Vediamo di trovare un modo per uscire da qui Ok Sì Ok Non c'ho abbastanza Non c'ho abbastanza volte Però questi dovrei No Non mi sputare in faccia No Muori Mi sta massacrando 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 schiattate in corpo mi ha sterminato mi hanno sterminato eh no stavolta no ok stai morendo e vai fatti sotto eh no col cavolo che ti lascio sputarmi in faccia frio aia aia ok ok no sto finendo il tempo aia mi ha morso il pene però finisce un altro vado di ratchet e clank fuoco a volontà alla prossima ciao ciao